E' caccia aperta in tutta la baronia al comando di tre banditi che questo pomeriggio attorno alle 15.30 ha tentato di rapinare la filiale del banco di Sardegna di Siniscola situata in piazza San Giovanni. I carabinieri della compagnia di Siniscola, comandati dal tenente Andrea Leacche, supportati dai colleghi delle stazioni e dagli agenti della polizia di Stato, hanno predisposto una serie di posti di controllo per bloccare la fuga dei malviventi. Tutto è accaduto in pochi minuti. I banditi, armati e mascherati, hanno prima bloccato un furgone posizionandolo in via Sassari per fermare il traffico diretto verso la sede dell'Istituto di Credito. Quindi, utilizzando uno smeriglio, hanno cercato di forzare la vetrata blindata della filiale. Ma il tentativo non ha dato l'esito sperato e hanno dovuto desistere dal compiere la rapina. Nel frattempo, gli impiegati hanno dato l'allarme e ai malviventi non è restato altro da fare che darsi alla fuga per le vie della cittadina baroniese. Sul posto sono giunti i carabinieri ed è scadato subito il piano antirapina che per ora non ha dato esito.